Storica messa del Papa negli Emirati Arabi, le vostre comunità siano oasi di pace, ha detto ad Abu Dhabi, siete come un albero che ogni giorno assorbe aria inquinate e restituisce ossigeno. 24 nuovi autobus per le linee dell'entroterra, inaugurati a Chiavari, mezzi già in servizio nella flotta di ATP, acquistati grazie ad un finanziamento di 5 milioni della città metropolitana. Operavano nel traffico di droga, avevano disponibilità di armi ed erano vicini all'Andrangheta, 6 persone sono state arrestate questa mattina a Genova dai carabinieri del ROS. La fede che rivive nella tradizione, celebrata a Bacezza la festa di San Biagio, contitolare della parrocchia, una liturgia curata con attenzione che è stata trasmessa in diretta su Telepace. Nel campionato di basket Serie D torna la vittoria alla Val Petronio Casarza con il Cogoleto, partita combattuta sino agli ultimi minuti, finita 79 a 70 per i padroni di casa. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Una messa storica, quella celebrata dal Papa questa mattina ad Abu Dhabi, la prima di un pontefice nella penisola arabica. Con la celebrazione si è chiuso il viaggio apostolico negli Emirati Arabi Uniti, un percorso breve ma intenso, segnato dal dialogo interreligioso e dall'incontro con la comunità cristiana locale. Vediamo. Siate oasi di pace grazie alle beatitudini. Chi le vive rende pulito il mondo. È come un albero che ogni giorno assorbe aria inquinata e restituisce ossigeno. È l'immagine usata dal Papa per tracciare lo stile della testimonianza a cui sono chiamati i cattolici negli Emirati Arabi. Le beatitudini sono a loro una mappa di vita. Non domandano azioni sovraumane, ma di imitare Gesù nella vita di ogni giorno. Invitano a tenere pulito il cuore, a praticare l'amitezza e la giustizia nonostante tutto, a essere misericordiosi con tutti, a vivere l'afflizione uniti a Dio. E la santità del vivere quotidiano, che non ha bisogno di miracoli e di segni straordinari. È la più grande messa cristiana pubblica nella penisola arabica. Allo stadio Zayed ci sono i migranti cattolici, minoranza che costituisce il 10% della popolazione, venuti negli Emirati Arabi per lavoro, di nazioni, riti e lingue diverse, ma uniti dalla fede. Chiedo per voi la grazia di custodire la pace, l'unità e di prendervi cura gli uni degli altri, con quella bella fraternità per cui non ci sono cristiani di prima e di seconda classe. L'Omelia di Francesco ricalca la pagina delle beatitudini, che sono un capovolgimento del pensare comune. I beati non sono i ricchi, i potenti, chi ha successo, bensì, dice il Papa, i poveri, i miti, chi resta giusto, i perseguitati. Ecco la prima realtà della vita cristiana. Essa non si presenta come un elenco di prescrizioni esteriori ad adempie o come un complesso insieme di dottrine da conoscere. Anzitutto non è questo, è sapersi in Gesù figli amati del Padre. Alcuni sono già in servizio nelle linee extraurbane dell'entroterra del Tiguglio. Dieci invece quelli che erano presenti questa mattina in Piazza Nostra, Signora dell'Orto a Chiavari, per la benedizione e l'inaugurazione. 24 in tutto i nuovi mezzi crossway che sono entrati a far parte della flotta di ATP Esercizio, acquistati grazie ad un finanziamento di oltre 5 milioni di euro messo a disposizione dalla città metropolitana di Genova. Quanto è stato l'impegno finanziario da parte dell'azienda della città metropolitana? Allora, questo è stato un impegno del sindaco della città metropolitana Marco Bucci, che sono 5 milioni di euro e abbiamo comprato 24 crossover da 10,80 metri che sono un pochino più corti in modo da fare servizio su tutta la parte dell'entroterra dove le strade non permettono il 12 metri. Quali le caratteristiche di questi mezzi? Questi mezzi sono 10 metri e mezzo Iveco con circa 9 mila di cilindrata, sono mezzi suburbani con pianale ribassato lo entry e la pedana per i disabili e quindi potranno essere fruiti da tutti i nostri utenti. Sono mezzi che verranno distribuiti su tutte le nostre linee e che riducono l'età media del nostro parco mezzi dai 13 anni iniziali a meno di 9 anni. Tenete conto che poi con i soldi che arrivano dal decreto Genova, che sono 2 milioni e mezzo, e l'aumento di capitale che faremo, lanceremo a marzo di quest'anno, che sarà di 3 milioni e mezzo, potremo rinnovare ancora questo parco mezzi e quindi superare la quota 100 di mezzi nuovi a disposizione dei nostri utenti, migliorando in maniera, direi, finale la qualità del servizio offerto ai nostri utenti. Come verranno utilizzati questi nuovi mezzi? Dunque, questi nuovi mezzi sono gli ultimi 12 di una serie di 24 gemelli e prevalentemente verranno utilizzati sulle linee da Chiaveri per Santo Stefano Daveto e prevalentemente sulle linee da Rapallo a Recco Genova. Poi, diciamo, parte di questi verrà utilizzata anche per la linea Colle Caprile-Recco e per la Fontana Buona in supporto al gemello da 12 metri. La cronaca ora. Sei persone sono state arrestate questa mattina a Genova. Sono accusate di far parte di un gruppo dedito alla distribuzione di stupefacenti. Gli arrestati, che avevano disponibilità di armi, secondo la ricostruzione dei carabinieri del Ross, hanno avuto contatti in questi mesi con l'Andrangheta genovese e del nord Italia. Operavano nel mercato illecito degli stupefacenti. Sette soggetti arrestati questa mattina a Genova nell'ambito dell'operazione condotta dai carabinieri del Ross e del Comando Provinciale. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Genova su proposta della direzione distrittuale antimafia. Sono state arrestate sei persone indagate a vario titolo per reati in materia di stupefacenti e armi e contro il patrimonio. Ad un'altra persona è stato notificato un provvedimento di divieto di dimora. Le perquisizioni hanno riguardato due soggetti già condannati perché appartenenti alla locale di Andrangheta di Genova e tuttora indagati per associazione mafiosa. Gli arresti di questa mattina sono giunti al termine di un'articolata attività di indagine iniziata poco meno di un anno fa. Le attenzioni degli investigatori si sono concentrate su due uomini di 50 e 52 anni già in contatto con l'Andrangheta di Genova e del nord Italia che operavano nel traffico di droga di varia natura, cocaina, hashish e marijuana. I due si avvalevano della collaborazione di altre persone perché erano diventati il punto di riferimento per una serie di soggetti che distribuivano lo stupefacente. Le indagini hanno documentato un tentativo di importazione di cocaina direttamente dal Sud America proprio per far fronte alle molteplici richieste e hanno messo in luce la pericolosità del gruppo. Quattro delle persone oggi arrestate, di età compresa fra i 35 e i 50 anni infatti, avevano disponibilità di armi. Prima degli arresti di questa mattina le indagini avevano permesso di eseguire altri sette misure cautelari in flagranza per le stesse imputazioni. Gli arrestati, di età compresa fra i 25 e i 61 anni, sono accusati di detenzione illecita di narcotici ed armi. Il 25enne in particolare sarebbe responsabile anche di due ingenti furti in esercizi commerciali. Nel cammino di fede della comunità di Baccezza a Chiavari, domenica è stata celebrata la festa di San Biagio, contitolare della parrocchia. La messa è terminata con il tradizionale gesto della benedizione del grano e della gola ed è stata curata dai parrocchiani con grande attenzione. I nostri telespettatori l'hanno potuta seguire in diretta su Telepace. La parrocchia di Baccezza ha celebrato la festa di San Biagio, contitolare assieme a Maria. Dopo la festa di Nostra Signora dell'Olivo, celebrata il 2 febbraio, la comunità si è radunata al santuario sulle colline di Chiavari per questo appuntamento tradizionale. La messa è stata trasmessa in diretta su Telepace. Tutti hanno potuto seguire così la riflessione sul Vangelo del giorno. Il Vangelo di Gesù che non viene ben accettato a Nazareth, ha dei problemi con gli abitanti di Nazareth che chiedono i miracoli come a Cafarnao e Gesù si arrabbia molto. Forse si arrabbia perché lui vuole una fede non scontata, una fede gratuita, una fede non legata alle nostre richieste, ai nostri bisogni. Gesù ci tiene a essere il Salvatore, a essere colui che porta il Padre, a essere l'amico, il fratello, ma anche il Salvatore di tutti. La celebrazione è terminata con due gesti legati alla tradizione, la benedizione della gola con la reliquia del Santo e la benedizione del grano. È stato benedetto anche il grano come sinonimo di parola di Dio e anche come sinonimo di abbondanza del grano che porti, germogli e che porti la parola di Dio nelle case. Tant'è vero che dopo il gesto della benedizione ognuno prende qualche chicco da portarlo in casa e molti lo seminano perché poi porti il gesto di questo germoglio che vuol significare di aver portato il germoglio di Dio in casa. C'è una cura speciale nella preparazione della celebrazione, ogni domenica ma in modo speciale nel giorno della festa. Più che altro mi dedico a questa chiesa per tenerla in ordine, per addobbarla quando ci sono le feste, come in questi giorni, per preparare la novena e tutto il resto. Cerchiamo di curare anche questo aspetto della liturgia che non è un di più ma è essenziale, che ci sia il canto durante la celebrazione della messa. Abbiamo la fortuna di avere un bellissimo strumento in questa chiesa e l'assemblea partecipa e scegliamo canti ogni domenica che possano accompagnare la liturgia secondo quelle che sono le letture del giorno. Chiavari promuove la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Dal primo febbraio tutte le istanze per interventi edilizi devono essere presentate obbligatoriamente online sulla pagina dello sportello unico sue.comune.chiavari.g.it slash webedil che è presente sulla home page del sito del Comune di Chiavari. Le pratiche cartacee presentate prima del primo febbraio o in itinere dovranno essere completate nello stesso formato con cui sono state depositate sul portale. Si potranno caricare le pratiche C, la scia, il permesso a costruire, la scia alternativa al permesso a costruire e le pratiche di fine lavori. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani edicola questa mattina poi ci ritroviamo per le ultime notizie dello sport. Patto di fratelli così titola avvenire il Papa e l'Imam Al-Zahar firmano la storica dichiarazione in nome di Dio no a odio e violenza libertà di culto più diritti per le minoranze e le donne e poi sotto invece la situazione internazionale con il Venezuela al centro no italiano Mattarella dire sì al popolo Europa con Gaido Maduro nell'angolo reddito pronti sito e car sulla TAV avvertimento dell'Unione Europea di Maio lo Stato torna amico dubbi di Confindustria e IMS già guerra di cifre e poi c'è la violenza alle donne da fuoco alla sua ex ma bisogna tornare a educare un esempio da seguire a Vicenza un industriale e i suoi dipendenti da 6.000 euro per i figli e poi c'è la giornata contro lo spreco i giovani che recuperano il cibo per sfamare i poveri i giovani che dicono di no allo spreco l'Italia butta via 15 miliardi di euro di cibo ogni anno un punto di pil oltre che risorse per i poveri così le nuove generazioni provano a invertire la rotta nelle scuole, sui campi e nei quartieri di periferia e siamo sul secolo XIX appello di Mattarella ma sul Venezuela l'Italia resta isolata in Europa c'è una bella vignetta di Rolli che dice io riconosco Dibba di Battista che è l'unico uno di quelli del Movimento 5 Stelle che vorrebbe riconoscere subito il dittatore venezuelano e poi Bruxelles se l'Italia fermerà la TAV pronte a chiedere indietro i soldi gli artisti cantano Genova il calcio aiuta la città dopo il dopo Morandi il brano di Chesu Logu Paolo di Luca e Paolo e l'asta a Milano appunto insieme a Luca e Paolo saranno sul palco dell'Ariston grandi artisti e anche il ligure Ivano Fossati i sindaci compatti chiedono il tunnel della Val Fontana Buona andiamo a vedere appunto all'interno del secolo XIX tunnel i sindaci preparano l'incontro con il presidente della regione dei Totti e il sindaco di Genova Bucci l'obiettivo è capire l'orientamento degli enti superiori sulla fattibilità del progetto con i primi cittadini della vallata anche quello di Rapallo tutto il Levante è per il sì un'infrastruttura fondamentale il passo successivo sarà coinvolgere anche il governo e sempre dal secolo XIX la messa in sicurezza partiti i primi lavori negli ex alberghetti di via Gramsci a Rapallo pulizia interna ed esterna e sondaggi nelle tre strutture una resterà albergo altre due diventeranno appartamenti esattamente 19 le camere d'albergo e 20 gli appartamenti con un complessivo 39 di posti auto la contropartita per la città e il completo restyling del teatro delle Clarisse il commento del sindaco Carlo Bagnasco dopo 30 anni di attesa si mette fine al degrado bene andiamo avanti con lo sport parliamo di basket serie C Silver Liguria nella quarta giornata del turno di ritorno si registra la sconfitta del Tigullio Sport Team che ospitava l'ardita Juventus 56 a 59 il risultato finale in classifica i tigullini sono a quota 18 punti alle spalle di Spezia Sarzana e Cus Genova a 22 prossima di campionato sabato alle 18.30 in casa del Sarzana Basket nel campionato di serie D la polisportiva Santa Caterina ha battuto Blusi Lavagna per 65 a 63 sconfitta anche del Villaggio Sport che in casa dell'Auxilium Genova ha perso per 78 a 65 torna alla vittoria invece il Valpetronio Casarza che ha vinto sul Cogoleto Basket per 79 a 70 su questo sentiamo i commenti di fine gara è stata una bella partita combattuta vinta poi alla fine c'è stato il recupero del Cogoleto purtroppo noi dopo vittoria di fila abbiamo perso venerdì scorso a Genova col My Basket che è una delle due o tre squadre più buone e quindi questa è una partita molto importante tra l'altro all'ultimo momento abbiamo dovuto rinunciare a Magica influenzato e Sambucetti che è via per problemi personali quindi il calo finale anche se chiaramente era meglio non ci fosse ci può stare perché purtroppo abbiamo giocato in sé tutta la partita e tenere quell'intensità difensiva che è la nostra caratteristica molto difficile però i ragazzi sono stati bravi a reagire a portare via una partita molto importante da squadra vera una partita combattuta fino all'ultimo a un certo punto sembravate fuori partita avete recuperato 76 a 70 insomma avete messo in difficoltà il Casarza sì ma contavamo comunque di non mollare fino alla fine di rientrare sapevamo che era una partita dura ma c'era ancora tempo troppo momenti decisivi abbiamo fatto qualche errore in più loro sono stati bravi hanno avuto continuità in attacco e quindi noi non riuscendo a limitarli è stato duro recuperare poi fino negli ultimi minuti come state in campo allora per noi era molto importante rifarci dopo settimana scorsa che abbiamo avuto uno stop dopo nove vittorie consecutive contro My Basket abbiamo cercato di difendere forte loro sono una buona squadra che ci mette in difficoltà perché noi siamo grandi loro sono piccolini è difficile giocare siamo riusciti ad andare sopra all'inizio poi complice le poche rotazioni e il loro rientro abbiamo rischiato di di nuovo andare punto a punto ma siamo stati bravi a difendere e a buttare dentro quei 3-4 punti importanti alla fine che ci hanno permesso di vincere e continuare a sperare per un buon posto nei playoff Nella classifica del campionato di serie D regionale di basket il Val Petronio Casarza sale a 18 punti alle spalle di basket Genova 24 basket Loano 22 Cogoletto basket a 20 il villaggio a 10 punti il blu si lavagna quota 2 nel prossimo turno di campionato il villaggio sport ospiterà sabato alle 21 l'Atletic Genova il Val Petronio Casarza invece giocherà in trasferta a Loano domenica alle 17 turno di riposo per il blu si lavagna ora gli altri aggiornamenti dalla redazione grazie Emanuela buongiorno a tutti si è conclusa da pochi minuti a Genova nella sede della città metropolitana la riunione che doveva fare il punto sugli spazi del liceo linguistico a Chiavari quello che è emerso secondo le prime informazioni è che nessun istituto del comprensorio di Chiavari verrà privato dei suoi spazi per ospitare appunto le aule della nuova realtà che sarà comunque sempre affidata al liceo Davigo si sta lavorando quello che emerge su due ipotesi concrete solamente quando sarà concretizzato l'atto formale di affitto di una di queste due ipotesi su cui si sta lavorando verranno svelate appunto i luoghi che andranno ad ospitare per il prossimo anno scolastico le aule del liceo linguistico che sarà comunque sempre a cura del Davigo di Rapallo per quanto riguarda la cronaca invece ha cercato di riscuotere con la forza affitti arretrati di un alloggio di sua proprietà non riuscendovi si è introdotto con violenza all'interno dell'abitazione danneggiando la porta d'ingresso e alcuni mobili per questo i carabinieri dopo una denuncia sporta dall'affittuario moroso un 48enne di Chiavari al termine dei accertamenti hanno deferito in stato di libertà per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e sulle persone un giovane un 38enne residente ad Asti dalla redazione è tutto lì nello studio grazie l'ingresso del campo sportivo Sivorià di Sestri Levante è stato intitolato a Fosco Beccatini noto calciatore nato nella Bimare nel 1925 e deceduto due anni fa Beccatini fu giocatore del Genoa dal gennaio del 1946 per 16 stagioni con 425 presenze e giocò anche in nazionale nel 1962 si ritirò dalla pratica professionistica ma restò nel mondo del calcio come allenatore di Albenga Rapallo e Sestri Levante il vice sindaco Pietro Gianelli ha così spiegato non amò mai salire alla ribalta rilasciò poche interviste ma è sempre rimasto nel cuore di tutti i tifosi rappresentando un orgoglio per la nostra città terminiamo così questa edizione di Tiguli Oggi la prossima andrà in onda alle 19.15 vi ricordo che trovate tutte le notizie sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 telepace news grazie per averci seguito e buon pomeriggio e buon pomeriggio e buon pomeriggio